Sintesi previsionale per domenica 15 ottobre 2023 e successivi due giorni. Una saccatura perturbata di matrice polare si addossa all'arco alpino e tenderà a scivolare sui Balcani. Ciò darà vita ad un passaggio perturbato lungo la fascia adriatica, iniziando dal nord-est. Tale passaggio sarà accompagnato da rovesci ed un netto calo delle temperature. Possibile anche qualche temporale lungo le coste adriatiche. Altrove nuvolosità irregolare in un contesto per lo più asciutto. Ventilazione in netto rinforzo a rotazione ciclonica. Successivi due giorni. Flusso di aria fredda dai quadranti orientali nella giornata di lunedì, accompagnato da nuvolosità irregolare, a tratti intensa. Possibili precipitazioni a ridosso dei rilievi del nord-ovest e sul basso tirreno. Dalla sera rapido peggioramento verso il centro nord, che si concretizzerà martedì quando ritroveremo suddette zone piogge diffuse e qualche temporale, in estensione al centro-sud nel corso della giornata. Ventilazione fino a forte e temperature in netto calo ovunque. Se vuoi ricevere le previsioni aggiornate, iscriviti e attiva la campanella.